Amici di Youtube ben trovati da Marco Liguori attenzione per avere subito online un nuovo video di Albano e Romina lasciate il vostro like a questo video a 500 like pubblicherò immediatamente un nuovo video Amici Youtube ben trovati in questo video parliamo di un litigio che ha colpito la famiglia di Albano che ha colpito Casa Garrisi tra un po' scoprirete anche quali sono state le conseguenze e soprattutto chi sono i protagonisti di questa lite, questa lite familiare vado a leggere un articolo pubblicato pochi minuti fa apprendiamo che Ieri Garrisi il figlio di Albano e Romina non ha gradito il fatto che suo padre sia tornato insieme a Loredana Lecciso infatti hanno già litigato e pare che il Giove abbia lasciato la casa a Cellino l'articolo continuo e ci dice che molto probabilmente Ieri che di recente ha anche trovato l'amore gli facciamo ovviamente i migliori auguri Ieri pare si sia recato in Croazia dalla sorella Cristel Carrisi Amici Youtube succede anche nelle migliori famiglie del resto diciamo la verità chi di voi alzino la mano coloro che non hanno mai litigato Amici Youtube qualora io vedessi tutte le vostre mani sicuramente ce ne sarebbero davvero poche io personalmente sono piuttosto litigioso litigo spesso l'ultima volta è stata pensate proprio ieri sera quindi Amici Youtube succede a tutti succede anche alla famiglia Carrisi per la cronaca per onestà devo dire che questa notizia non è confermata è un indiscrezione e non abbiamo la conferma della notizia tuttavia la confermeremo qualora venisse fatto nei prossimi giorni Amici Youtube vado anche a tradurre questo video in spagnolo Ieri Carrisi sepelea con l'uretana lecciso idea Cellino San Marco la notizia non è sta confirmata grazie a tutti ripeto ancora una volta che qualora questo video dovesse superare i 500 like ne pubblicherò immediatamente uno nuovo commentate la vostra opinione per me è fondamentale ma fatelo con educazione tutti i commenti non educati tutti i commenti offensivi in relazione ai protagonisti di questo video saranno scartati quindi Amici Youtube commentate ma fatelo educatamente ciao a tutti